Attenzione, terzo posto, chiamalo, chiamiamolo, amore, Gigliola Cinquetti, 788.772 voti. Gigliola Cinquetti. Questo è un tuo ritorno fortunato sul palcoscenico di Sanremo, sei mancata quanto tempo, Gigliola? 12 anni. 12 anni, ritorni con il terzo posto e con una votazione di un pubblico che ti ama, il titolo è stato anche scritto sbagliato, però l'hanno intituto tutto, che è chiamiamolo, amore, no, ma chiamalo, amore, e ascoltiamola questa canzone, classificata sia al terzo posto, Gigliola Cinquetti. Svegliarsi una mattina al centro della vita Ma con qualcosa dentro che non se ne va Trovarsi in mezzo a situazioni senza uscita E riscoprire a un tratto la semplicità Chiamalo, amore, chiamalo, amore, chiamalo, amore, e risponderà Far pace coi ricordi per ricominciare E non lasciarsi dietro a mezzo a verità Tu chiamalo, amore, chiamalo, amore, e amore sarà Tu chiamalo, amore, tu chiamalo, amore, anche se ti tradisce Tu chiamalo, amore, tu chiamalo, amore, e quando il gioco finisce e non hai più parole, tu chiamalo amore. E camminare senza fretta per guardare, in faccia senza più paura la realtà, parlarsi tanto fino ad arrivare al cuore, sapendo quanto costa la sincerità, chiamalo amore. Chiamalo amore, ti risponderà. Chiamalo amore, tu chiamalo amore, anche se ti tradisce, tu chiamalo amore. E anche se sono carenze, che ti spaccano il cuore, tu chiamalo amore, tu chiamalo amore. Anche se ti tradisce, tu chiamalo amore. Chiamalo amore, Gigliola Cinquetti. Vai dietro le finte, ma ritorna, perché c'è una sorpresa per te. Ci vediamo tra un po'. Gigliola. Il premio per il personaggio più rappresentativo nella storia del Festival di Sanremo, premio del Radio Corriere TV, a Gigliola Cinquetti. Ecco il famoso cavallo Messina, che sta davanti al grande palazzo di Viale Mazzini, alla RAI, e del Radio Corriere che te lo consegna come personaggio rappresentativo, storicamente, del Festival di Sanremo. Gigliola Cinquetti. Aspetta per il tuo microfono, datemi il microfono. Gigliola. Vorrei dire grazie per questo premio, grazie al Radio Corriere, e ne approfitto per dire grazie anche a tutti i giornalisti che mi hanno prestato la loro attenzione, grazie a tutti quelli che hanno votato per me stasera, grazie ai miei colleghi che mi sono stati vicino, a Pippo, che mi ha fatto un sorriso giusto nel momento giusto, e poi ai fotografi, certo, al pubblico in sala, e poi, e poi, Freddy, Maurizio, Massimo, Dario, Paolo, e tanti altri. Gigliola Cinquetti. Vesti con noi? Vesti con noi. Premio... Ti faccio compagnia. Benissimo, con piacere. Premio Onda TV, personaggio rivelazione di questo festival, Onda TV a Luis Miguel. Questo ragazzo di 14 anni navigato, artista sicuro nel gesto, nell'espressione, questo trofeo chissà quanti li vincerà, questo ha soltanto 14 anni agli inizi. Ecco, le sa tutte? Le conosce tutte? Luis Miguel, Onda TV. Vieni, vieni, vieni. Devo dirvi di una segnalazione particolare fatta dalla maggioranza, quasi totalità, dei giornalisti accreditati qui al festival. Rimani con noi. Qui accreditati al festival, che hanno fatto una segnalazione di merito critica, a favore, per i big, ai Mattia Bazar. Per i giovani, a Cristiano De Andrè e a Mango. E veniamo adesso al premio di Telesette. Il settimanale Telesette ha assegnato il premio alla voce più bella, che è quella di Edoardo De Crescenzo. Premio Telesette. Grazie.